Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. L'allontanamento della bassa pressione verso Levante garantirà un miglioramento dal tempo, ma con ancora la possibilità di qualche locale fenomeno. Domenica 12. In genere parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con la media probabilità di qualche altra pioggia sul Medio Basso Ionio e sull'Alto Tirreno. Poi alla sera qualche fenomeno sarà ulteriormente possibile sul Basso Tirreno, probabilmente asciutto altrove. Venti tententi a disporsi dai quadranti nordorientali, con intensità debole o moderata. Mari mossi, forse poco mosso, solo l'Alto Ionio. Temperature in aumento nei valori diurni, stazionari e in quelli minimi. Maggiore stabilità attesa per lunedì 13 settembre, salvo qualche scroscio di pioggia ancora possibile al pomeriggio nelle aree interne della Calabria centro-meridionale. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie.